90 scatti giudicati da una commissione, 90 fotografie che raccontano i motori, l'Historic Rally delle Valle Taretine e che ricordano Paolo Todisco Grande. Ecco qua le immagini in gara per la seconda edizione del premio fotografico Paolo Todisco Grande, organizzato nell'ambito del VI Historic Rally delle Valle Taretine, grazie alla sinergia che si è creata tra la Scuderia Etruria e il fotoclub La Chimera. È stato durante Giampiero a vincere il primo premio, seguito da Eugenio Piccioli, Matteo Daveri, Felice Rogialli con il quarto premio e da Gaia Todisco con il quinto. Un premio particolare andato a Felice Rogialli per la categoria Simpatia. Le foto saranno esposte presso la sede del fotoclub La Chimera in Piazza Grande, che sabato prossimo vedrà oltre alla cerimonia di consegna del secondo premio Paolo Todisco Grande anche il taglio del nastro della mostra, in concomitanza con l'edizione di agosto della Fiera Antiquaria.